Vittorio Sgarbi in visita nella città Abruzzia per un tour culturale e religioso commenta a caldo la fine dell'amministrazione Occhiuto tentando un paragone sarcastico con la figura leggendaria di Alarico. E' una giornata felice, quando c'è una sfiducia si apre un futuro, anche Grillo ha sfiduciato Renzi. No, voglio dire, sì ho letto, mi ha un po' colpito perché pensavo e penso che sia un buon sindaco, è una persona generalmente considerata dei cittadini, per questo l'hanno sfiduciato, per cui quelli che stanno nelle finte maggioranze si muovono con tradimenti, ma questo è abbastanza, al tempo di Alarico era anche peggio. La mossa politica del quartetto Adamo Gentile, Guccione e Morrone, secondo Sgarbi, farebbe crescere nella gente comune di Cosenza un sentimento di nostalgia da Occhiuto. Mi hanno cacciato la sottosegretaria, da assessore a Milano, da sindaco, addirittura con la mafia, mi hanno fatto diventare dranghettista in Calabria, mi hanno cacciato la sottosegretaria, sono sempre qua. Quindi chi è cacciato è fortunato, poi c'è anche padre Pio che aiuta. Rossana Muraca per la CNews24 Rossana Muraca per la CNews24